I Gatti di Ultar, di Lovecraft Si dice che a Ultar, oltre il fiume Sky, nessuno può uccidere un gatto. E posso credere vero ciò, mentre l'ho fisso accoccolato a fare le fusa davanti al camino, poiché il gatto è enigmatico e affine a quelle sconosciute cose che gli uomini non possono vedere. E lo spirito dell'antico Egitto, e depositario dei racconti giunti dalle città dimenticate delle terre di Meroe e Hofir, è parente dei signori della giungla, ed erede dei segreti dell'Africa oscura e inquietante. La sfinge è sua cugina, ed esso parla la sua lingua, ma è più antico della sfinge, e ricorda ciò che essa ha obbliato. A Ultar, prima che i notabili proibissero l'uccisione dei gatti, abitavano un vecchio fittavolo e sua moglie, i quali si dilettavano a intrappolare e a uccidere i gatti dei vicini. Perché facessero ciò, non lo so, Tranne che molti detestano i miagolii notturni dei gatti, e considerano nefasto che i gatti all'imbrunire si aggirino furtivamente nei cortili e nei giardini. Tuttavia, qualunque fosse la ragione, quel vecchio e sua moglie provavano piacere nel catturare e uccidere ogni gatto che si avvicinasse alla loro stamberga, ed alcuni suoni che sudivano dopo il crepuscolo, molti degli abitanti del villaggio immaginavano che il modo in cui uccidevano fosse piuttosto particolare. Eppure, gli abitanti del villaggio non parlarono mai di tali cose con il vecchio e con sua moglie, per via dell'abituale espressione sulle loro facce avvizzite, e per il fatto che il loro cottage era talmente piccolo e così cupamente nascosto sotto i rami delle querce che si propagavano dal retro di un terreno abbandonato. In verità, sebbene i proprietari dei gatti detestassero quegli strani tizi, ne erano ancor più intimoriti, e invece di incolparli come brutali assassini, si limitavano soltanto a fare attenzione che nessun adorato animaletto domestico o predatore di topi si dirigesse verso l'isolata stamberga sotto i tetri alberi. Quando per una qualche inevitabile distrazione un gatto spariva, e sudivano lamenti dopo il tramonto, chi l'aveva perso si lagnava impotente o si consolava ringraziando il fato che non fosse stato uno dei suoi bambini a essere scomparso. Poiché gli abitanti di Ultar erano persone semplici e non sapevano da dove fossero venuti per la prima volta tutti i gatti. Un giorno una carovana di singolari vagabondi del sud arrivò sulle strade acciottolate di Ultar. Avevano la pelle scura ed erano diversi dagli altri tizi girovaghi che passavano per il villaggio due volte all'anno. Nella piazza del mercato predicevano la sorte in cambio di una moneta d'argento e compravano perline dai colori vivaci dai mercanti. Nessuno sarebbe stato capace di dire quale fosse il paese di quei vagabondi, ma fu notato che recitavano strane preghiere e che c'erano dipinte sui fianchi dei loro carri bizzarre figure con corpi umani e teste di gatti, di falchi, di arieti e di leoni. E il capo della carovana portava un copricapo con due corni e un curioso disco fra questi. In quella particolare carovana c'era un ragazzetto senza né padre né madre, ma con solo un micetto nero a cui badare. L'epidemia non era stata buona verso di lui, ma se non altro gli aveva lasciato quella cosetta pelosa per alleviare la sua tristezza. E quando si è molto giovani è facile trovare conforto nelle vivaci moine di un gattino nero. Cosicché il ragazzo, che quella gente scura chiamava Menes, stava più spesso a ridere che a piangere mentre sedeva giocando con il suo grazioso gattino sui gradini di un carro stranamente dipinto. La mattina del terzo giorno della permanenza dei girovaghi a Ultar, Menes non trovò il suo gattino e siccome scoppiò in singhiozzi nella piazza del mercato, alcuni abitanti del villaggio gli raccontarono del vecchio e di sua moglie e dei lamenti che sudivano di notte. E quando egli sentì quelle cose, il suo piagnucolare lasciò il posto alla riflessione e alla fine alla preghiera. Levò le braccia verso il sole e pregò in una lingua che nessun abitante del villaggio poté comprendere, anche se in realtà gli abitanti non si sforzarono di capire, visto che la loro attenzione era rivolta verso il cielo e le strane forme che le nuvole stavano assumendo. Era davvero singolare, ma nel momento in cui il ragazzino mormorò la sua supplica, esse sembravano prendere l'aspetto nel cielo di indistinte, nebulose figure esotiche, di ibride creature incoronate da dischi a due corni. La natura è colma di simili illusioni per impressionare la fantasia. Quella notte i girovaghi lasciarono Hultar e non furono più rivisti. E i capi famiglia furono turbati quando notarono che in tutto il villaggio non vi era più un solo gatto. Da ogni focolare era sparito il gatto domestico, gatti grossi e piccini, neri, grigi, striati, gialli e bianchi. Il vecchio Cranon, il borgomastro, giurò che i tizi scuri avessero portato via tutti i gatti per vendicare l'uccisione del gattino di Menes ed egli maledisse la carovana e il ragazzino. Ma Nit, il magro notaio, affermò che fosse più facile sospettare di persone come il vecchio fittavolo e sua moglie, poiché il loro odio verso i gatti era ben noto e diventava sempre più sfacciato. Tuttavia, nessuno osò protestare contro la sinistra coppia, neppure quando il piccolo Atal, il figlio del locandiere, giurò di aver visto al crepuscolo tutti i gatti di Ultar nel campo maledetto sotto gli alberi che andavano avanti e indietro molto lentamente e solennemente in circolo intorno al cottage, in fila per due, come se stessero compiendo, un qualche ignoto rito bestiale. Gli abitanti del villaggio non sapevano se credero o meno a un così piccolo ragazzo e, sebbene temessero che la demoniaca coppia avesse ammaliato i gatti causando la loro morte, preferirono non affrontare il vecchio fittavolo finché non l'avessero incontrato fuori dal suo tetro e ripugnante cortile. E così Ultar andò a dormire in preda all'impotente rabbia e quando la gente all'alba si ridestò prodigio! Tutti i gatti erano tornati al loro solito focolare grossi e piccini neri, grigi, striati gialli e bianchi nessuno era sparito apparivano con il pelo assai lucido e belli grassi e facevano sonore e fusa soddisfatte. I cittadini si consultarono l'un l'altro sulla faccenda e si meravigliarono non poco. Il vecchio Cranon insistette di nuovo che erano stati quei tizi scuri ad averli presi visto che i gatti non erano mai tornati vivi dal cottage del vegliardo e di sua moglie ma tutti concordarono su una cosa che il rifiuto di tutti i gatti di mangiare la loro porzione di carne o di bere i loro piattini di latte era estremamente curioso e per due giorni interi i lucidi i pigri gatti di Hultar non vollero toccare cibo ma soltanto sonnecchiare vicino al fuoco o al sole. passò un'intera settimana prima che gli abitanti del villaggio notassero che al crepuscolo nessuna luce compariva alle finestre del cottage sotto gli alberi. Allora il magro Knit osservò che nessuno aveva più visto il vecchio e sua moglie dalla notte in cui i gatti erano scomparsi. Nel giro di un'altra settimana il borgomastro decise di vincere le sue paure e di far visita alla stranamente silenziosa abitazione per una questione di dovere anche se nel farlo fu prudente portando con sé il fabbro Shang e il tagliapietre Tull come testimoni. E quando buttarono giù la fragile porta trovarono solo questo due scheletri umani perfettamente ripuliti sul pavimento davanti al camino e un gran numero di insoliti scarafaggi che strisciavano negli angoli bui. Successivamente ci fu un gran discutere fra i notabili di Ultar. Zatt il medico legale discusse a lungo con Nitt il magro notaio e Cranon Shang e Tull furono sommersi di domande. Persino il piccolo Atal il figlio dell'ocandiere fu interrogato minuziosamente e ricevette un dolce come ricompensa. Parlarono del vecchio fittavolo e di sua moglie della carovana di girovaghi scuri del piccolo Menes e del suo gattino nero della preghiera di Menes e del cielo durante quella preghiera dei comportamenti dei gatti nella notte della partenza della carovana e di quello che poi fu trovato nel cottage sotto i tetri alberi nel ripugnante cortile. E alla fine i notabili approvarono quella famosa legge di cui parlano i mercanti di Hateg e sulla quale discutono i viaggiatori a Nir ossia che a Ulta nessuno può uccidere un gatto.